L'Abruzzo piange Franco Marini, sindacalista, ex ministro del lavoro ed ex presidente del Senato. Aveva 87 anni ed era stato dimesso a fine gennaio dall'ospedale di Rieti dopo un ricovero per Covid. Nato a San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila, Marini, da sempre legato alle radici abruzzesi, è stato segretario generale della CIS, presidente del Senato, ministro del lavoro e della previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. Come detto, a inizio gennaio era stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Rieti per Covid-19 per poi essere dimesso. A dare l'annuncio su Twitter Pierluigi Castagnetti ci ha lasciato Franco Marini, uomo integro, forte e fedele a un grande ideale, la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia, quella vera. Primo genito di una numerosa famiglia di modeste condizioni economiche, a nove anni Marini si trasferì a Rieti per esigenze di lavoro del padre. Conseguita la laurea in giurisprudenza, svolse il servizio di leva come ufficiale negli Alpini, cui è rimasto sempre molto legato. Nella mia vita forse una passione extra sindacato, extra politica che ho avuto è quella della montagna. I miei ricordi sono ricordi positivi. La sua carriera politica inizia come leader della Cisla per poi approdare in Parlamento con la democrazia cristiana e passare nel 94 al PPI di cui diviene leader. E' stato ministro del lavoro nel 1991-92 nel governo Andreotti e presidente del Senato nel 2006-2008. Risulta eletto il senatore Franco Marini che invito... Marini partecipò alla fondazione del Partito Democratico e fu il principale referente della corrente dei popolari di matrice democristiana e cristiano sociale. Più volte in Abruzzo, nel suo Abruzzo, per partecipare a incontri, convegni e soprattutto alle adunate degli Alpini di cui era da sempre stato fiero di appartenere. Amante del confronto, queste le sue parole in un incontro promosso qualche anno fa a Pescara. Parole che sembrano profetiche. C'è un ritardo dell'Europa. Rafforziamo la possibilità, dinanzi agli scontri di interessi tra gli stati, di usare lo strumento del confronto e allora vuol dire che l'umanità ha fatto qualche passo avanti verso la sua civilizzazione. L'Abruzzo perde una delle sue figure più autorevoli. A nome mio e della giunta regionale esprime il cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista, che ha svolto la sua attività raggiungendo i massimi livelli istituzionali, prestando sempre particolari attenzioni alla sua terra d'origine, lo ha detto il presidente della regione Marco Marsiglio. Da più parti politiche, testimonianze e cordoglio, dal deputato di Tagliaviva ad Alessandro, al coordinatore della Lega, il deputato d'Eramo, del capigruppo in consiglio regionale del PD Paolucci e quello di Fratelli d'Italia a testa alle deputate 5 Stelle, Torto, PD Pezzopane e l'ex parlamentare Gianni Melilla, il quale chiosa la sua mancata elezione alle politiche 2013 e una macchia della storia del PD. Ciao Franco, conclude il coordinatore regionale di Abruzzo in azione Giulio Cesare Sottanelli, ma soprattutto gli alpini abruzzesi lo piangono, lo ricorda così, con affetto Pietro D'Alfonso, il presidente della sezione Abruzzo dell'ANA, perché nessuno di noi si può dimenticare che appena poteva scappava da noi, ex alpino semplice, col cappello, con la penna sotto al braccio che si infilava sulla testa alla prima occasione.